Con un po' di fortuna e molta fantasia, forse il ministro Fioramonti riuscirà a recuperare i famosi 3 miliardi per scuola e università che aveva promesso. Lo si può dedurre dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal ministro in occasione del suo intervento alla inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Siena. Ogni giorno che passa, ha detto Fioramonti, riusciamo a mettere insieme altri milioni. Ma il ministro dovrà essere assistito da una buona dose di fortuna perché su ogni milione trovato dovrà comunque fare i conti con la ragioneria generale dello Stato, sempre pronta a fare le pulci a tutti i ministeri. Per intanto quello che appare ormai sicuro è che il programma di estensione del tempo pieno al Sud subirà un arresto, mentre sul disegno di legge azzolina per contrastare le cosiddette classi pollaio potrebbe essere posta una pietra tombale una volta per tutte. E così Fioramonti dovrà affidarsi anche alla fantasia. E in effetti proprio a Siena ha annunciato che per il 2020 ci sarà non meno di un miliardo per l'edilizia scolastica. Peccato che si tratti di soldi già stanziati da tempo e che per imperscrutabili ragioni erano rimasti fermi negli uffici ministeriali. Anzi nel febbraio scorso l'ex ministro Busetti nel rispondere a due question time alla Camera parlava di più di 5 miliardi assegnati alle regioni per interventi di edilizia scolastica. E in precedenza lo stesso Busetti aveva affermato che nelle casse dello Stato di miliardi ce n'erano già 7 proprio per l'edilizia. A questo punto i conti tornano perché Fioramonti intervenendo a Rivoli per la giornata nazionale della sicurezza a scuola ha garantito che per il 2020 ci saranno ancora altri soldi per ammodernare gli edifici scolastici e per costruirne di nuovi. Complicatissimo resta invece il nodo degli stipendi perché per poter aumentare le retribuzioni di docenti e ATA il governo dovrà trovare i soldi anche per gli altri settori del pubblico impiego. L'alternativa potrebbe essere quella di azzerare il bonus merito e la carta del docente, poco più di 500 milioni di euro in tutto che ripartiti fra docenti e ATA vorrebbero dire 35-40 euro lordi a testa. Ma gli insegnanti saranno d'accordo a perdere i benefici della carta del docente per garantire un aumento di stipendio anche a collaboratori scolastici e assistenti amministrativi? Ma soprattutto, anche se saranno d'accordo, dovranno accettare che i 500 euro annui, che ora sono esentasse, entrando in busta paga, si riducano a poco più della metà. Bene, su questo tema noi continueremo a tenervi informati perché è un tema di grande interesse per tutti, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it, leggeteci ma soprattutto scriveteci e inviateci i vostri commenti e le vostre osservazioni. Grazie a tutti.